Buongiorno a tutti gli investitori, a tutti i traders da parte di Luca Stellato, 20 anni di esperienza sui mercati finanziari specializzato in opzioni, in options. Ti aspetto questo venerdì alle ore 9.30 su Flash Mercati per parlare di indici di borsa, speciale attenzione agli indici americani, sotto elezioni vincerà Trump o vincerà Biden, poi capatine in Europa, indici europei e attenzione i più grandi e interessanti temi del momento sulle azioni americane ed europee. Se hai domande da farmi durante la diretta, vuoi che analizzi alcuni titoli o alcuni indici di tuo interesse, mi raccomando scrivi al numero che compare qua sotto e potrò risponderti direttamente. Se vuoi conoscere meglio chi sono il mio lavoro, la mia attività di divulgazione e di informazione, ti invito a guardare i miei siti che sono portafogliprotetti.it e faretradingconleopzioni.it che stai vedendo in questo momento davanti ai tuoi occhi. Qui trovi tutte le informazioni e il materiale gratuito per conoscermi meglio e sapere di che cosa mi occupo. Grazie mille per la tua attenzione, ci vediamo su Flash Mercati venerdì alle ore 9.30.